Il nostro paese è passato a Noritza, che ci porta oggi in Rapadi, un paese che conta 20 abitanti all'anno e non si può passare questa settimana a Noritza senza parlare di un castagnetto, un retzinko, un famoso in Corsica. Per questo è una scontra a Vamida Colombani, che è in piena raccolta di castagni, andiamo subito a scontrarli. In Gira Ubaesi i terreni sono stati puliti da tirare reti e raccogliare il vuto. I Colombani spluttano una drantina ettari e i castagni. A Vigliera si rimette piano piano di difficoltà posti da Usinips, ma ferma frastornata di Odi Asichia che minaccia la produzione. Siamo lontano di prima, siamo lontano di prima. Ciò da sapere che qui Usinips è un fatto, ma è la secchina che faceva più. Chi ci tomba qui di Asichina, a Noritza non ci piove più. Sono cinque anni che non piove mica Noritza e i castagni si muorono tutti. Questa gente non ha capito, quando li bellano, Noritza, l'Orezza c'era quello che non c'era più acqua di Corsica. E dunque Usinips ha fatto i lavasti. Allì siamo a un quarto, siamo anche a meditare di ciò che c'era prima, di castagni. E la produzione di castagni cresce con Tung? A Pinuccia, a Pinuccia è più che anno, ma assai fragiche. Assai fragiche, dunque quando avremo visto e scelto saremo sempre come anno a poco presto, perché c'è una miracoli fragiche. Voi siete in cui i vostri fidoli, in cui amici di noi, facciano un pape per il Paese a raccoltare i castagni con Tung? E per la sicura, per la sicura, i mobioli, a scienza che i mobioli hanno ripigliato ciò che voglio aereo, ciò che faccio sempre. Ma i mobioli hanno una volontà di stare qui, di compattare qui, sono arrivati, hanno i giucci. Ma assai fragiche, faccio dire a gente che i giorni che avete visto, marito e moglie, questi stanno nel Paese in Rabaglio. Dunque, gli ho un più, gli ho un più e a noi ci sono, ci sono una coscienza che lì ci sono. Ciao a tutti. Allora, spiegate già appena, perché ti fai tutta la scelta qui, di campare qui in Paese, in Noritza e mica di stare a vivere in Piadi, sarebbe forse più facile? Io ho un cibo, con il primo ragazzo che c'è di una scelta. Ho ovemmo anche la scelta, perché sono una scelta. Allora siamo con la scelta a giugano, padrono di sindi a un paese, ho un po' di una scelta, ho un po' di ricerca, ho un po' di ricerca, ho arrignato, ho un po' di ricerca. Ho invece di usare una strada, ho un po' di ricerca, ho un po' di ricerca. E'a una strada, molto famiglia, quindi ho un po' di ricerca. Per noi sì, perché siamo barretti a campare con quei castagni non c'è più abbastanza per campare solo con i castagni. E i bordi non possiamo campare, ma è sempre bello di farlo, quindi abbiamo fatto la live, facendo 3 o 4 anni e proviamo di farlo appena tutto. E se non c'è mica abbiazza patutti, a Vamida Colombani ferma raggiata i zoologhi da continuare a far campare a Tarra Oritza. Grazie a tutti.